Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Operazione Pony Express, sgominata dalla polizia di Fano, la banda dei finti corrieri mettevano a segno furti in negozi nel centro nord Italia Rimosso e smantellato a Fano il vecchio ponte girevole sul porto canale Fano diventa una città tutta da giocare, domenica prossima strade chiuse al traffico per far divertire i bambini con attività ludiche e didattiche Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a Occhio alla Notizia La polizia di Fano ha sgominato la banda dei finti corrieri che aveva messo a segno furti su calzature e cosmetici in tutto il centro nord Italia Vittima anche un esercente di via Matteotti a Fano Vediamo il servizio curato da Simona Zonghetti Simulavano l'errata consegna di merce ai negozi di calzature e profumerie per poter rubare i cogli appena scaricati dai veri corrieri È stata denominata operazione Pony Express, quella condotta dal commissariato di Fano che ha permesso di smantellare una banda che agiva con destrezza più volte a settimana Due dei banditi, Carmine Caputo e Raffaele Angri, rispettivamente di 33 e 38 anni sono stati fermati a Trento mentre Salvatore Stasino, di 29 anni, nella città della Fortuna L'inchiesta è partita da un furto di cento paia di scarpe griffate per un valore di circa 30.000 euro messo a segno il 19 febbraio scorso ai danni del titolare di Primigi in corso Matteotti a Fano L'uomo aveva raccontato ai poliziotti che un noto corriere della zona gli aveva consegnato 15 colli di calzature Due giorni dopo, un sedicente impiegato dello stesso corriere aveva telefonato dicendo che c'era stato un errore di consegna e che a breve sarebbe arrivato un furgone per riportare via la merce da sostituire poi in seguito Alcuni minuti dopo, un furgone con le stesse insegne e colori uguali a quelle del primo automezzo aveva ritirato il tutto Trascorsi alcuni giorni, nell'inutile attesa delle nuove scarpe il negoziante si è rivolto alla polizia coordinata da Stefano Seretti Dalle indagini si è scoperto che dei furti identici erano stati denunciati anche in Emilia, in Lombardia e in Trentino Alto Adige Queste persone arrestate fanno parte di una banda specializzata proprio nel commettere furti seriali in tutto il centro nord Italia con destrezza, nel senso che riuscivano a ingannare i commercianti e a farsi consegnare numerosa merce appena consegnata dai veri corrieri si fingevano appartenenti a dei corrieri che consegnavano quindi la merce e riuscivano con degli stratagemmi molto elaborati a farsi poi riconsegnare la merce e quindi poi la piazzavano nei loro canali di vende ricavandone molti soldi anche perché il valore della merce asportata in molti casi era superiore anche ai 10.000 euro abbiamo sicuramente effettuato degli arresti molto importanti a Fano hanno effettuato il loro colpo a febbraio e noi nel giro di poche settimane siamo riusciti poi a prenderli nella franze di reato a Trento i tre tutti di origine napoletana avevano la base operativa nelle vicinanze di Bologna ed erano già conosciuti alle forze dell'ordine Caputo e Angri sono stati arrestati in flagranza di reato dagli agenti della mobile Trentina all'uscita di un negozio di cosmetici dove avevano appena ritirato alcuna merce ora si trovano gli arresti domiciliari Stasino invece che in genere faceva da autista è stato bloccato a Fano lui è stato denunciato in stato di libertà ora le indagini proseguono per verificare l'eventuale presenza di una talpa all'interno dell'organizzazione delle spedizioni visto che malviventi colpivano subito nel giro di uno o due giorni dalla vera consegna sempre per cercare ulteriori indizi il questore Antonio Lauriola invita gli esercenti vittime di troffe a denunciare sempre l'accaduto certamente noi in base alla denuncia poi sviluppiamo tutta l'attività investigativa così come è nata questa operazione da una denuncia fatta a Fano con l'importanza all'interno della videosorveglianza che ci ha dato degli elementi essenziali per l'indagine poi si è sviluppata in ambito nazionale Diceva che grazie alle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso spesso le indagini vanno a buon fine Sono essenziali e vanno sempre a buon fine sempre da che ho esperienza investigativa sono sempre date a buon fine quindi io invito anche i commercianti intanto di riferire eventualmente avessero visto in opera questi personaggi e poi di appuntare l'attenzione sulla videosorveglianza E ancora forze dell'ordine in azione questa volta sono le fiamme gialle del comando provinciale di Pesero Urbino che hanno eseguito 34 perquisizioni domiciliari nelle province di Pesero Urbino Forlì, Ravenna, Rimini e Bari Le indagini coordinate dal procuratore della Repubblica di Urbino Irene Lillio interessano una società sportiva di pallavolo e altre 5 associazioni sportive in provincia di Pesero Urbino Rimini e Forlì I reati ipotizzati vanno dalla dichiarazione fraudolenta all'omessa o infedele dichiarazione all'emissione e o annotazione di fatture per operazioni inesistenti per aggirare la tassazione dei ricavi avvalendosi indebitamente delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive e utilizzando fatture relative a prestazioni mai rese o rese in parte Gli indagati sono per il momento i tre legali rappresentanti della società e delle associazioni cui oggi è stata notificata l'informazione di garanzia E questa mattina chi è passato dal porto canale di Fano ha notato decine di curiosi che stavano assistendo alla rimozione e allo smantellamento del vecchio ponte girevole Vediamo il servizio Rimosso e smantellato Questa la sorte del vecchio ponticello girevole di collegamento tra il Lido e la Sassonia di Fano La passerella ciclopedonale era ormai inutilizzata da quasi un anno perché sostituita dal nuovo ponte installato a fine luglio 2014 Il sindaco Massimo Seri e l'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini Venerdì scorso avevano anticipato che ne verrà realizzato un altro da posizionare più a monte verso la Darsena Borghese La nuova infrastruttura infatti è stata inserita nel programma delle opere 2016 Intanto questa mattina la società incaricata dal comune la GFG Rottami di Serrungarina ha provveduto ad eseguire i lavori di rimozione Sì, viene rimosso finalmente perché non era giusto mantenerlo lì la vecchia passerella non era un bel vedere tra poco arriva l'estate se ne è fatta è già arrivata non dobbiamo dimenticare che è una città di mare arriveranno i turisti abbiamo un nuovo ponte che è un bel ponte quindi non sarebbe stato un bel biglietto da visita mantenere la vecchia passerella fra l'altro inutilizzata quindi finalmente abbiamo trovato la ditta disponibile a smantellarla e oggi era il giorno loro disponibile Per proteggere l'area di banchina è rimasta scoperta poi è stata installata provvisoriamente una barriera New Jersey in cemento in quanto tempo sarà possibile rimuoverlo? La rimozione avviene immediatamente quindi adesso lo sollevano lo appoggiano qui sulla banchina poi viene tagliato in tre parti trasportato tramite il camion e portato via E il peso totale? Pesa circa 3 tonnellate 3 tonnellate poco più un'operazione che facciamo gratuitamente quindi lo viene smantellato senza oneri per l'amministrazione e la ditta fa quest'operazione gratuitamente in quanto ammortizza i costi poi vendendo il ferro come ferro vecchio quindi per questo che l'operazione per il comune è gratuita Ricordi che riaffiorano alla mente di tutti coloro che quel ponte lo hanno percorso centinaia di volte nel corso della vita e in molti questa mattina non si sono voluti perdere l'ultimo sguardo a quel pezzo di storia che come raccontano rimarrà sempre nella loro memoria Mi raccontavano i suoi amici che lei si prendeva cura di questo vecchio ponte? Purtroppo magari pagavano bene Di che cosa si occupava esattamente? Mi occupavo di aprire le barche che andavano su e andavano giù Per quanto tempo l'ha fatto? Non lo so, non ricordo Fino qualche anno fa? Qualche anno fa L'ho fatto una vita guardia Ho fatto la guardia fino a mezz'ora ho pensato a mezzanotte E le dispiace che lo tolgono? Sì, sì Anche lei oggi qua per vedere la rimozione? Sì, qualcosa di bello che lo fanno almeno per il pubblico questa è l'opera che hanno fatto l'altro ponte è una cosa veramente bella quella è la cazzata che non finisce più però la vecchia struttura almeno le levano qualcosa di bello rimane per il turismo per un'altra cosa magari le servono per un'altra parte e speriamo che fanno qualcosa di bene sulla strada non solo il ponte Quante volte è passato lei è sopra quel vecchio ponte? La vita Ho 80 anni e da 20 anni che c'è lì E che effetto le fa a vedere che lo stanno togliendo? Era meglio se rimaneva Rimaneva a ricordo? Sì, mi ricordo e poi ci passavo sempre io con la bicicletta invece là c'è la salita Anche voi ci siete passati? Sì, all'anima sì, sì lo stesso uguale come lui 80 anni e un po' E oggi ovviamente rimanete qua per vedere tutta la rimozione? No, questo è il posto nostro per gli anziani c'è quell'estiva e quell'invernale l'estiva dopo è là sotto il fico Ancora rimanete un po' qui Fino a che morì E beh, sicuramente loro la vita del porto la conoscono bene Cambiamo argomento parliamo di immigrati Forza Nuova di Pesolo Urbino ha preso che la prefettura alloggerà circa 20 migranti in una migrazione privata di calcinelli con l'ausilio si legge in una nota della cooperativa Labirinto Secondo i militanti il fatto è organizzato all'insaputa dei residenti se così fosse si mobiliteranno per protestare e ribadire che non c'è più spazio per gli immigrati ma solo per le espulsioni e torniamo a parlare della corte malattestiana sì perché l'ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi ha firmato una mozione per non far trasferire gli spettacoli al Sant'Arcangelo questo documento ha detto Aguzzi impegna il sindaco e la giunta a ricercare le risorse necessarie per il ripristino dell'arredo della corte quale area di eccellenza della nostra città per eventi musicali teatrali e culturali queste iniziative possono accrescere l'offerta turistica attraverso uno dei luoghi più belli esistenti nel nostro territorio anche molti fanesi e semplici cittadini la pensano come l'ex sindaco e hanno organizzato spontaneamente una raccolta firme arrivate a ben 980 e che domani mattina verranno portate all'ufficio protocollo del comune di Fano cambiamo argomento passiamo a gli eventi che si terranno prossimamente nella città di Fano organizzato dall'associazione di volontariato armonia mente e corpo e dalla caritas di Fano sabato 30 maggio al centro pastorale dioceseano l'ex seminario si svolgerà un convegno dal titolo salute e povertà vediamo di che cosa si tratta nel servizio per anni nel nostro paese il problema della povertà ha riguardato fasce marginali della società mentre oggi è di tutta evidenza che tale problematica assume un rilievo e una estensione tali da interessarie ampie fasce sociali su tutto il territorio nazionale peraltro aggravata dalla persistente crisi economica tale piega sociale colpisce ogni aspetto della vita e da ripercussioni particolarmente gravi sulle condizioni di salute è un evento è un evento importante sia per la tematica che viene affrontata cioè povertà e salute ma innanzitutto per le implicazioni che oggi comporta la crisi economica e l'impoverimento diciamo della società con le conseguenze quindi con le ricadute immediate sulla salute questo nuovo tipo di povertà è vissuto con un senso di vergogna e di frustrazione dovuto alla perdita dei ruoli sociali e a un inasprimento dei rapporti familiari che a sua volta induce comportamenti deviati la tavola rotonda di sabato pomeriggio sarà proprio finalizzato a conoscere meglio questo progetto a trovare reti e alleanze per cercare insieme di affrontare una tematica che di per sé è molto complessa e che nessuno può avere la pacchetta magica per risolvere facilmente è urgente dunque da un punto di vista etico e morale riflettere su questi temi ed elaborare soluzioni oltre il 90% delle persone che si avvicinano a noi sono persone che hanno o perso il lavoro o hanno un reddito insufficiente o hanno un reddito precario e hanno in realtà e questo ormai ce lo dimostra purtroppo la complessità del mondo di oggi tutta una serie di altre problematiche che sono familiari che sono di salute vera e propria Continuiamo a parlare di salute la banca di credito cooperativo di Gradare si è superata ancora una volta donando alla Croce Rossa di Pesaro un'ambulanza di nuova generazione la particolarità è che il nuovo mezzo utile per l'intero territorio pesarese è attrezzato anche per il trasporto dei bambini la cerimonia di consegna si è svolta nella Sala Rossa del Comune di Pesaro alla presenza dell'assessore ai servizi sociali del Comune Sara Mengucci del Presidente della BCC di Gradara Fausto Caldari e del Presidente della Croce Rossa di Pesaro Claudio Frulli ancora 20 domenica 31 maggio torna la città da giocare 2015 con un programma ricco di novità a partire anche dalla location infatti dopo 10 anni di viale adriatico l'evento si svolgerà lungo viale Gramsci che per l'occasione rimarrà chiuso al traffico vediamo Laboratori creativi una mostra del giocattolo d'altri tempi lettura ad alta voce un albero di carta pesta alto 3 metri simbolo della nuova edizione è stato presentato dal sindaco di Fano Massimo Seri dall'assessore Samuele Mascarenni il programma 2015 della città da giocare un evento che si svolgerà domenica 31 maggio dalle 16 alle ore 18 lungo viale Gramsci e nella zona del Pincio la manifestazione che segna il cuore di un programma di iniziative previste fino al 21 giugno prossimo vedrà quindi un susseguirsi di attività ludiche e didattiche grazie alla partecipazione di 70 realtà cittadine tra scuole associazioni e società sportive una grandissima partecipazione una fortissima adesione della società civile e una scelta simbolica quella di riportare la città da giocare al centro della città attraverso la costruzione di percorsi che ruoteranno intorno a un grande albero di tre metri realizzato grazie alla collaborazione della carnevalesca la cui chioma verrà composta dai laboratori delle bambine e dei bambini in modo per riaffermare che le bambine e i bambini non sono i cittadini di domani ma sono già oggi dei cittadini che sono in grado di dare una visuale una chiave di lettura della nostra città diversa e migliore da quella degli adulti una visuale una lettura che noi vogliamo in qualche modo recuperare e vogliamo valorizzare la zona del Pincio invece verrà curata dall'Emporio A.E. assieme al paese dei Balocchi e ad altre associazioni locali nella parte del Pincio ci saranno diverse associazioni che sono l'Avis l'Aset l'associazione Libertiamoci lo spazio A.E. la cooperativa Geri con l'oratorio di San Cristoforo che curano appunto tutto il piazzale del Pincio e speriamo venga insomma una cosa ricca è un progetto questo che porta anche la firma del primo cittadino Massimo Seri c'era il desiderio di rivalorizzare l'iniziativa detto il sindaco creando un evento a misura di bambino una città giusta per loro è una città giusta per tutti proprio per questo stiamo elaborando anche nuovi progetti sperimentali che partiranno da settembre come un quartiere a misura di bambino e non è un caso che io abbia deciso di mantenermi questa delega proprio per dimostrare che è un punto forte qualificante che tanti ci invidiano quindi siamo molto contenti speriamo che il tempo ci assista che sia una bella giornata se ciò non dovesse essere la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva e a proposito di bambini sabato prossimo l'associazione del paese dei balocchi inaugura una mostra del giocattolo a palazzo San Michele guardiamo insieme sarà come fare un tuffo nel passato e scoprire come era possibile divertirsi non era non ancora digitale arriva fanno la prima mostra del giocatto in un mondo magico e al tempo stesso reale ricostruito da un'idea dell'associazione il paese dei balocchi da sempre impegnata sui temi dell'infanzia e dell'educazione l'allestimento dal titolo cose giocate è reso possibile grazie al contributo di Renata Gossoli esperta di letteratura per bambini che metterà a disposizione la sua collezione comprendente giocattoli che vanno dall'inizio del novecento fino agli anni sessanta sì l'idea è stata è venuta qualche tempo fa qualche anno fa perché ho visto questi giocattoli esposti su a Mercatello sul Metauro è una mostra molto importante perché questa signora Renata Gossoli è una persona che ha lavorato sempre nel mondo del giocattolo e del gioco e soprattutto è una appassionata di giocattoli quindi li ha raccolti tutto il suo arco di vita come dice il titolo della mostra cose giocate sono giocattoli appartenuti a qualche bambino che poi magari ormai è cresciuto è anche adulto o anche vecchio e che però sono vissuti questi giocattoli quindi questa è l'importanza di questa mostra e di questi giocattoli marionette teatrini macchine da cucina e alcuni pezzi unici come cavallini con carretto e stufe in ghisa questi sono solo alcuni degli oggetti che verranno esposti a partire da sabato 30 maggio alle ore 18 a Palazzo San Michele il 6 giugno poi sempre nella stessa location si terrà un convegno dal titolo a che gioco giochiamo ma i progetti e gli obiettivi del paese dei balocchi non terminano qui la nostra idea la nostra idea principale è quella di fare di un museo affano del giocattolo e del gioco affano perché è la città dei bambini e delle bambine e perché soprattutto c'è questa tradizione importante di lavorare con i bambini quindi è una mostra è un museo sarà un luogo dove poter rendere felici i bambini ma soprattutto anche gli adulti perché giocare insieme con i propri figli è la cosa forse più importante che ci sia Bene, dopo quest'ultima notizia di carattere ludico termina qui questa edizione di Occhio alla Notizia che tornerà naturalmente se voi vorrete domani sera alle 20.30 puntuale Buona serata e buon proseguimento con i nostri programmi seguiranno due speciali di approfondimento politico Buona serata a tutti voi Buona serata a tutti Buona serata a tutti Buona serata a tutti